dal vangelo secondo luca in quel tempo il padre e la madre di gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui simeone li benedisse e a maria sua madre disse ecco egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in israele è come segno di contraddizione e anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori